Avellino deve vincere per centrare il passo ottavi in Champions e chiude avanti il primo periodo grazie anche all'ally-oop firmato sull'asse Harper-Diaye. La Sidigas rischia di vivere il secondo periodo di Bologna, ma resta avanti anche al ventesimo. Bomba di Green, autore a Bentspilz di ben 39 punti. La Sidigas sembra poter correre, ma il team Letton resta lì. Tripla di Johnson per il 50-52 in avvio di ripresa. L'equilibrio si conferma e Gulbis segna subendo fallo. Sorpasso Bentspilz al 34esimo. Le occasioni per strappare l'inerzia e il confronto, Avellino non le sfrutta. Johnson sbaglia il libero. Young offre margine e Dramee può accomodare la parità quota 90. Si decide tutto all'overtime, con i Baltici subito a creare vantaggio. Il ferro inizia a giocare incredibilmente. La bomba di Sykes vale il meno 2 Irpino con l'esterno di Chicago che ne realizza 29 in serata. Da una situazione complicata, il Bentspilz riemerge con la bomba di Jakovic. A 91 secondi dal termine, Avellino è sotto di 5, ma trova la forza per sperare ancora. Libero sul ferro, Sivins ha la tripla del sorpasso. Malanello cancella in modo beffardo quanto rilasciato dal Lettone. Palla che resta fuori, la Sidigas saluta la Champions e l'Europa. Rifiuto alla Europe Cup. Tanto amaro in bocca per il 106-102 finale e la settima sconfitta consecutiva per i Lupi.